L'azienda Stilnovo si specializzò nella produzione di apparecchi di illuminazione e complementi d'arredo. Fu fondata nel giugno del 1946 da Bruno Gatta e già nel dicembre dello stesso anno apparve per la prima volta sulla celebre rivista Domus. Dal 1947 iniziò ad ottenere inoltre i primi riconoscimenti anche grazie alle sue partecipazioni alle fiere espositive delle triennali, alle quali partecipò anche negli anni successivi. Gli anni di massimo fulgore della produzione dell'azienda furono però gli anni 50 e 60. Vogliamo infatti oggi presentarvi questa lampada da terra degli anni 60, come vedete caratterizzata dalla linearità e essenzialità delle forme che la costituiscono. Il basamento è infatti formato da questo treppiedi in metallo smaltato a sorreggere il paralume in vetro opalino. L'essenzialità però non va a discapito della raffinatezza e dell'accuratezza dei particolari, come si può vedere dall'anello e dai piedini in ottone.